ma salve benvenuti in un nuovissimo episodio delle quattro chiacchere di godo spero che tutto proceda secondo i miei piani godosi lo dico sempre questa cosa perché non mi pare vero che gli episodi di quattro chiacchere di godo lentamente stanno aumentando questo perché sto cercando lentamente di far uscire gli episodi 4 chiacchere di godo almeno uno ogni due settimane che già sarebbe un miracolo godoso questo perché ci metto tanto a fare i costumi a loro e tra l'altro piccola chicca del video di oggi i costumi che ho fatto oggi a loro sono in assoluto i primi costumi che hanno avuto la necessità di un collaudo e voi direte che cos'è un aereo no non sono degli aerei c'è stato un momento di panico quando ho fatto il collaudo tecnico del movimento dei costumi di oggi comunque capirete il perché comunque per essere low budget troppo bravo sono quindi se riesco a far uscire un episodio di quattro chiacchere di godo almeno ogni due settimane godrei veramente veramente tanto e tutto questo servirà a dar vita al canale che sta lentamente emergendo avete visto che sto portando un sacco di serie secondo il mio calendario sus dovreste aver visto anche gli episodi extra di pop in realtà in capitolo 3 elder ring sta andando avanti e lentamente arriveremo a essere pronti per il dlc power world anche lentamente sta andando avanti è uscito anche l'episodio di sapore di godo 2.0 se così vogliamo che mi sono veramente divertito tanto a fare e non è finita se pensate che il ritorno di sapore di godo sia il massimo godo no perché tornerà l'anti show si e loro avevano promesso sarebbe uscito a dicembre diciamo che abbiamo avuto dei piccoli problemini con la schedule in quali però dovrebbe uscire finalmente anche l'episodio dell'anti show 2 primo episodio era sulla natura che è uscito un anno fa pensate e l'episodio 2 allora la tematica della robotica quindi intelligenza artificiale artificiale insomma cose incredibili ho in mente il prossimo special dove chissà una forza nemica nuova chi lo sa perché ovviamente già avete visto lo scorso special adesso che abbiamo messo finalmente una croce sopra quel bruco malvagio chi lo sa se ci saranno nuovi nemici che distruggeranno la mia povera routine con queste creature lo sa chi lo sa non ho approfittato per fare questa piccola premessa sus perché giustamente mi avete chiesto quali saranno i video che usciranno in questo arco narrativo e vi ho spiegato tutto quanto in maniera incredibile ma di cosa parleremo in questo incredibile video di oggi oggi parleremo di un manga oh finalmente e vi racconto un'altra chicca oggi un sacco di chicca il manga che vi racconterò oggi pensate doveva essere l'episodio successivo delle quattro chiacchiere in padella dell'anno scorso io l'anno scorso feci un video su un manga chiamato chieri love che andò pure bene all'epoca quel video lì e pensate che il video dopo quello doveva essere esattamente il manga di oggi cioè debbi decorsifa poi sono successe un sacco di cose come vedete le cose sono andate in meglio ringraziando il godo e dopo un anno con sicuramente più spazio e più tempo poi realmente dovrò parlarvi di questo piccolo manga che sinceramente per come l'ho scoperto e per quanto mi ha divertito è una lettura simpatica l'ho scoperto in maniera originale e ve ne parlerò in questo video incredibile vi racconterò i primi otto capitoli del manga proprio 10 con il video di chiarirò mi accompagneranno loro con i loro costumini collaudati sperando che vada tutto bene spero che questo video vi possa rallegrare un pochino perché parleremo insomma di demoniette e quando si parla di demoniette può essere anche una lettura come dire tranquilla senza colpi di scena in calibri scontata ma ci stanno le demoniette e hanno le demoniette ci piacciono come si dice a roma incredibile quindi l'idea di partire con questo video in carlingle sigla e si parte ed eccoci qua la nostra amatissima scrivania godosa è sempre piena di questi accessori che mi faranno accompagnare per i prossimi tempi poi un giorno vi prometto che abbellirò questa postazione ovviamente di comprare alcuni poster oppure qualche quadretto qualche oggettino simpatico però per adesso ci vediamo questi oggettini trovati in maniera sus prometto con giorno ci sanno miglioramenti anche per quanto riguarda l'aspetto grafico di questa zona incredibile delle quattro piatte detto questo direi cominciano a fare di questo ma il nave di cui parlerò oggi si chiama debbi de corsiva è un manga scritto da masairo irakata che è un mangaka che ha fatto veramente poche opere di pochi capitoli e generalmente mai concluse eccetto debbi che sinceramente sta andando avanti e probabilmente sarà l'unica serie che lo renderà un pochino più noto del normale nonostante numerose pause ogni tanto ha una pubblicazione quasi normale questa serie nasce pensate come un one shot pubblicato sulla rivista jump giga di shu escia pensate nell'aprile 2020 prima di essere serializzata sul sito shonen jump plus a partire dal dicembre del 2020 la serie è stata compilata in otto volumi a partire dal febbraio 2024 questa serie è una commedia ecci con elementi sovrannaturali e con sovrannaturali intendo che ci sono delle demoniette sexy molto molto carine il titolo si traduce in inglese con debbi de corsiva emolus con emolus che sta per ramare emulare e copiare questa cosa la capirete quando vi spiegherò la trama e soprattutto quando parleremo un po della nostra adorata debbi prima di passare la trama parlare dei vari personaggi e raccontarvi un po qualche capitolo su se ti voglio raccontare di come ho scoperto questo manga come avevo detto un attimo fa questo manga ha iniziato ad essere serializzato nel dicembre 2020 e io ho scoperto questo manga pensate l'anno scorso e l'ho scoperto in maniera casolare perché mi sta guardando su youtube alcune clip alcune compilation di tipi di anime che sarebbero dovuti uscire a fine anno e in mezzo a questa listina di clip c'era debbi de corsiva che design strano mi ricorda vagamente acqua di konosuba e mamma mia se c'avevo ragione comunque ricco questo video incredibile mi guardo questo piccolo trailer incredibile dico vabbè sembra proprio una cosa la classica cosa life of life comedy con demoniette carine il problema è che io pensavo fosse un'anima quindi quando mi sono andata a informare quando usciva questo anime di debbi scopro che quel trailer non era di un anime su debbi ma era del manga quindi io ero convinto che uscisse l'anima di debbi invece era il manga di debbi e questa cosa mi ha fatto incuriosire perché ho pensato quante volte esce un trailer di un manga invece che di un anime sinceramente non è che ne ho visti tanti tre e di manga ma soprattutto tre le animati quindi proprio come se fosse un anime però più male questa cosa mi piace abbastanza incuriosire e fu proprio questa domanda incredibile che mi fece avvicinare a questo ma però prima di passare a tutto il resto vi voglio far vedere proprio questa clip qui che sarà proprio una infarinatura generale del mood di questo maga quindi prego al me del passato che mi fa vedere quanto è bella debbi incredibile ecco il vostro zoe di fiducia dal passato no non sto guardando un film rule 34 sulle succubi ma quello che stiamo per vedere è una cosa che ho citato nel video che tra l'altro sto finendo di editare nel futuro proprio su debbi decorsifa perché come vi accennavo nel video esiste il manga trailer proprio di debbi decorsifa quindi ho detto assolutamente devo registrare una piccola clip dove guardiamo insieme questa cosa e la metterò nel video delle quattro chiacchiere di goto questa è l'evoluzione di goto versi tv 1.5 riuscire a fare due cose in stile diverso e metterli in un video solo mamma mia incredibile comunque vediamolo un attimo tanto dura 30 secondi ragazzi alcuni di voi l'avranno anche visto però è incredibile vediamolo subito 3 2 1 vai scusate mi fa troppo rire bellissima è identica al manga è uguale è incredibile tra l'altro ho beccato il frame perfetto è un talento il mio potevo beccare qualsiasi frame ho beccato il frame del culo va bene se state pensato che debbi assumì molto acqua di konosuba è perché condividono la stessa mentalità la stessa intelligenza diciamo che non peccano l'intelligenza però sono buone lo stile è identico al manga vi metterò qualche immaginina in editing quando parlerò dei capitoli però questo è il primo capitolo quando lei entra nella casa del nostro protagonista e decide di sfidarlo e perde malissimo questo è fantastico questo è il capitolo 2 quando fanno la gara col sedere tipo Keiju però la scena più bella è questa per quanto mi riguarda questa guarda puoi sentire il dolore in questo momento è bellissimo vedete il meme di Bart quando va davanti al televisore puoi bloccare quel frame e vedere esattamente il momento in cui gli sei spezzato il cuore eccolo ecco il momento questo qui bellissimo per il resto l'adoro quando si arrabbia qui è quando il portare la schiaccia quindi con la faccia del nostro protagonista che non sa neanche lui come commentare debbi torniamo al futuro e vi continuo a raccontare i capitoli incredibili però volevo aggiungere questa cosa incredibile tempo presente se state pensando che la mia battuta di prima che debbi e acqua siano simili almeno a livello di intelligenza state andando sulla strada giusta perché infatti adesso vi dirò la sinossi, la trama sus del primo capitolo incredibile di debbi la sinossi incredibile di questa storia è che nelle profondità dell'inferno incredibile abita la nostra dorata debbi che a quanto pare è fortissima infatti adora prendere a pugni i demoni e come si è visto nel trailer sta proprio vicino a delle montagne di demoni sconfitti presi a pugni e distrutti e giustamente debbi si annoia perché dopo aver sconfitto a quanto pare tutti i demoni questa cosa è abbastanza sus decide di fare la cosa più easy del mondo andare allo step successivo cioè letteralmente distruggere l'umanità giustamente vi starete chiedendo ok è un piano incredibile distruggere l'umanità ma come farà la nostra dorata debbi a farlo? semplice se ne trasportandosi completamente a caso nella stanza del nostro protagonista chiamato Rokuro Sugo spero sia questa la pronuncia incredibile però come vi ripeto sempre quando hai a che fare col Godoverse le pronunce se ne vanno del Godoverse appunto qui partirà una sfida tra debbi e il nostro protagonista incredibile e da questa sfida che partirà tra loro due con una semplice partita a carte che debbi perderà inizieranno una serie infinita di gag tra debbi e altri personaggi incredibili con il nostro protagonista e altri personaggi secondari incredibili dove debbi deve dimostrare di essere forte e dovrà riuscire almeno una volta a sconfiggere in un qualsiasi gioco il nostro adorato Rokuro in soldoni sono numerosissime gag come di Slip of Life che avvengono nei momenti più disparati con i personaggi più strani e stravaganti incredibili dove essenzialmente debbi deve riuscire a sconfiggere Rokuro almeno una volta e secondo voi ci riuscirà per adesso non c'è riuscita però ci sta provando con tutte le intenzioni del mondo e chissà se alla fine nel finale di quest'opera quando sarà debbi riuscirà a sconfiggere magari a scatti forse l'ho sparata un po' grossa conoscendo debbi però a debbi gli si vuole bene ma prima di parlare in maniera completa di tutto quello che avviene nel primo capitolo volevo parlarvi un attimo di debbi debbi a capelli corti biondi e due paia di occhi rossi questa è una feature molto particolare di debbi perché lei possiamo dire a quattro occhi cosa intendo con quattro occhi semplici perché oltre ai suoi normali occhi ha due piccoli occhietti sulla testa e gli occhi che ha sui capelli non vanno molto d'accordo con gli occhi normali che può avere debbi o qualsiasi altro personale in questa serie perché a quanto pare in generale tutti i demoni in questa serie hanno degli occhi e dei capelli che rappresentano se vogliamo le loro emozioni i loro sentimenti quello che loro non vogliono mostrare cosa intendo semplice se debbi all'apparenza sembra dura fortissima niente può sconfiggere la sicura di sé altezzosa acqua style gli occhi dei capelli in realtà manifestano tutti i suoi problemi interiore le sue fragilità le sue paure quando una cosa non gli piace quando una cosa gli fa schifo e una gag che spiegherà questa cosa è proprio nel primo capitolo che vi racconterò tra poco per il resto è considerata appunto uno dei demoni più forti dell'inferno e fa parte se vogliamo di un'armata che governa una buona parte dell'inferno ovviamente andando avanti conosceremo un sacco di demoni tra cui Diablo che è una sua amica di infanzia nonché il suo capo e Rise che conosceremo nel terzo capitolo quando giocherà una pallavolo incredibile che possiamo dire è la sua sottoposta a livello di potere e abilità la nostra debbie ha il pacchetto standard quindi è molto forte ha sensi sviluppati può manipolare il fuoco può manipolare l'aria ha il potere della telepatia però diciamo che se da una parte c'è tanta roba dall'altra c'è il fatto che di intelligenza diciamo che è livello acqua quindi è un po' stupidina è quello stupidino che piace che stuzzica la curiosità ed è uno dei motivi per il quale il nostro protagonista zitto zitto si innamorerà di lei lentamente perché si la vede come una rivale si la vede come una cosa fastidiosa ma come al solito ci siamo capiti per quanto riguarda il nostro auguro è un normalissimo ragazzo che vive la sua vita tranquillamente adora i giochi in generale adora i giochi da tavola adora le carte ha numerosi hobby ha un'amica di infanzia che gli vuole molto bene il classico prototipo di protagonista standard che abbiamo visto in un sacco di slice of life in un sacco di comedi e diciamoci la verità se non fosse stato per Debbie a rallegrare un po' la sua vita sai che noia detto questo parliamo del primo capitolo che più o meno è tutto quello che vi ho detto prima della sinossi quindi di Debbie che è stanca di stare all'inferno che decide di distruggere l'umanità e si manifesta nella casa del nostro rocuro adesso arriviamo alle cose più spicy appena si trova nella camera di questo povero disgraziato sta per ucciderlo come prima vittima del suo piano per distruggere l'umanità ma lui in maniera molto sus raccoglie una carta perché stava giocando sto facendo un castello di carte gliela mette davanti alla sua bellissima faccetta e gli dice ah tu credi di essere più forte ah che ne pensi di sfigare un umano a un gioco umano e qui partono le classiche gag con Debbie tutt'altezzosa che dice ma io sono un demone fortissimo non ho bisogno di dimostrarti niente boi questa è una cosa che mi ha fatto ridere per tutto il tempo mi fa ridere quando lo chiama boi perché mi viene in mente il God of War e quindi ogni volta che Debbie dice boi io mi immagino Kratos che fa boi è una cosa stupida ma mi fa ridere tantissimo all'inizio la nostra Debbie è molto titubante ma alla fine per dimostrare di essere superiore decide di accettare questo gioco incredibile e quale sarà questo gioco incredibile che ha bisogno di un'intelligenza sopraffita per giocarlo con questo intendo che i giocatori dovranno avere una mano di carte incredibile e fare in modo che tutte le carte finiscano nel mazzo e l'ultimo che rimane in questo caso il Joker perde la partita inizia e indovinate un po' Debbie perde ovviamente cosa vi aspettavate Debbie perde ma non demorde quindi immediatamente c'è la partita numero 2 che Debbie perde di nuovo e comincia a disperarsi con delle scenette veramente deliziosi con lei che piange si dispera che sono veramente carine ma la chicca qual è? che nella prima partita c'è la famosa gag che vi accennavo prima dei capelli cioè mentre Debbie è tutta sicura e non vuole far vedere proprio poker face style gli occhi che ha sulla testa letteralmente puntano esattamente il Joker e quindi con questo inquadrare la carta avete da immaginare questa scena è simpatica di lei tutta seria tutta pagata ah sì sì intanto non indovinerai mai quale tra queste due carte è il Joker e i suoi occhietti puntano proprio il Joker questo vi fa capire la differenza che c'è tra la personalità di Debbie e i suoi capelli che infatti lo curo vi farà proprio una battuta sul fatto che lui ha vinto grazie ai capelli e Debbie non capisce come se non sapessi di avere degli occhi in testa è adorabile nonostante questo Debbie non demorde arriviamo alla terza manche questa volta il nostro lo curo si supera con un trucco di carte che mamma arriviamo alla finale sempre due carte verso due carte quale sarà il Joker e Procuro fa la mossa del capito una cosa veramente banale cioè mette una carta sopra l'altra e giustamente pensa non può essere Debbie così come dire stupidina da cascare che la carta sopra è il Joker e te l'ha messa proprio sopra così tu pensi che non è quella ma in realtà pensi che è quella e Debbie la prende e perde anche la terza manche allora si arrabbia va in rage dice distorgerò l'umanità e tu sarai la mia prima vittima e squilla il telefono squilla il telefono e al telefono è proprio resa da sottoposta di Debbie che giustamente sta chiedendo dove sei finita dovresti stare qui a fare i tuoi lavori da demonietta simpatica le dice ah tranquilla sono nel mondo umano finisco questa cosa e poi arrivo e magicamente si apre un portale che risucchia la nostra Debbie e scopriamo una delle feature della serie cioè il fatto che Debbie sendo un demone può rimanere nel mondo umano soltanto per un'ora al giorno ovviamente mentre la risucchia la promette a Rucuro che lo sconfiggerà e tutto finisce con Rucuro che fa una delle facce più confuse divertenti e mistiche che io abbia mai visto in sintesi la nostra Debbie affronterà Rucuro per i prossimi capitoli futuri in quell'ora di tempo che ha al giorno e così si conclude il primo capitolo che mette le basi per tutti i capitoli futuri quindi numerosissime gag giochi diversi e tentativi vari di Debbie di sconfiggere Rucuro e dimostrare di essere forte e verrete che il suo obiettivo di distruggere l'umanità lentamente andrà via nel cestino perché se lo dimenticherà palesemente e il suo obiettivo diventerà sconfiggere Rucuro almeno una volta in un qualsiasi gioco random detto questo passo la palla a loro che vi racconteranno i prossimi capitoli e noi ci vediamo nel capitolo finale passo la linea su se schede ma ne vogliamo ma ne vogliamo parla guardate ditemi voi un canale incredibile che porta dei costumi di questa qualità guardate sono Debbie guardate siamo uguali ho le alette questa aletta purtroppo è venuta un po' stoltra e ho anche la coda e adesso vi faccio vedere e io sono Reisu diciamo la seguace di Debbie come nella realtà io seguo su omestà e anche quando facciamo i costumini come dire do retta alla lore dei costumini e infatti questa signorina la conosceremo proprio in questo capitolo incredibile cioè il capitolo 2 però guardate ho i capelli e ho le alette guardate quanto siamo carini insieme guardate ragazzi dei costumi così sono su questo canale incredibile quindi salutiamo il cameraman incredibile che ci ha fatto dei costumi incredibile anche se purtroppo come al solito ci sono stati dei problemi con l'auto perché mentre la susse le alette gli vanno bene la mia aletta questa aletta incredibile funziona l'altra aletta è un po' sus pure la coda è un po' sus con queste immagini incredibili cominciamo a parlare dei capitoli incredibili capitolo 2 wow allora il capitolo inizia in maniera molto simpatica perché abbiamo il nostro e lo culo che mangia in maniera incredibile e facciamo la conoscenza della sua amica di infanzia Mokizuki De Mari il classico cliché di amica di infanzia diciamo non pecca di intelligenza neanche lei infatti lei e Debbie andranno molto d'accordo però è simpatica e a noi ci va bene così poi che succede su su? loro stavano tranquillamente a mangiare a un certo punto arriva lei in stile Team Rocket guardate comincia a dire ah è il momento di giocare umano boy come dice lei e giustamente diciamo che la situazione va un po' fuori controllo perché la nostra Temari che appunto abbiamo detto non è che pecchi di intelligenza non è che ha capito subito che Debbie è un demone pensa sia una probabilmente una cosplayer pazza nonostante le fa queste faccette sus è Temari proprio che dice il gioco di oggi ragazzi vi giuro che non stiamo scherzando il gioco di oggi è prendersi a curate se non ci vedete guardate a parte il fatto di questa inquadratura sul culotto di Temari che come dire noi apprezziamo sempre il gioco di oggi è praticamente casual non ricordate casual ci hanno fatto pure un anime incredibile delle ragazze che con i loro collute incredibili devono buttarsi fuori da un ring incredibile e che rimane vince e si può usare solamente le sciapette per qualche oscuro motivo guardate gli occhi del vostro scherzo incredibile questa serie piace molto a sus e beh mi pare ovvio il vostro sus mamma mia tutte queste chiapotte belle mamma mia non mi pare vero potete vedere una cosa del genere in un manga che non è quello lì quindi il vostro sus è contento però giustamente la situazione va fuori contro perché dopo avergli spiegato giustamente le regole di questo gioco incredibile Debbie comincia a comportarsi in maniera come vedete un pochino sus stravagante come dire non vuole partecipare a questo gioco incredibile alla fine decide di partecipare però scopriamo che il motivo per il quale come dire Debbie non vuole partecipare è un motivo molto simpatico cioè Debbie pensa che se il suo bel culetto dovesse toccare il culetto di un umano lei come dire non è più pura sus che ne pensi ok Debbie tutto d'accordo diciamo che nel mondo umano le questioni sono un po' diverse però a quanto pare Debbie una ragazza pura nonostante il suo lato demoniaco incredibile quindi all'inizio non vuole partecipare però alla fine come vedete partecipa a questo gioco incredibile indovinate un po' ovviamente perde perché povera Debbie ma è una gioia la prima volta perde perché appena viene sfiorata dalle chiappette di rocuro lei si sente come dire mamma mia si sente toccata praticamente esce da sola dal ring mentre la seconda volta rocuro usa la forza di accelerazione gluteosa di Debbie per schivare il colpo e lei magicamente esce da ring da sola è ovviamente primo piano del culetto di Debbie perché a noi ci piace nel finale del capitolo incontriamo Reisu che ovviamente è la ragazza del quale sto facendo questo cosplay incredibile che diciamo è la sottomosta di Debbie e giustamente preoccupata perché non vede più Debbie e va nel mondo umano tramite un portale per vedere che cosa sta facendo Debbie e il finale è emblematico questa è la sua espressione quando si accorge che Debbie sta facendo un gioco veramente insignificante con degli umani e quindi lei fa la cosa più ovvia del mondo apre un portale e si porta via Debbie prossimo capitolo oh queste sono le cose che piacciono al vostro schedero incredibile terzo capitolo incredibile questo capitolo si chiama volleyball e indovinato un po' si gioca a palla a polo su secondetto mamma mia so come sta vorrei essere quella palla la sinossi di questo capitolo è molto semplice cioè che Debbie arriva mentre Temare e Rocuro stanno giocando a palla a polo lei dice ah voglio giocare e giustamente loro dicono ah questo è un gioco che si fa in coppia e tu sei da sola allora Debbie in maniera molto gius evoca proprio Reisu ce la presentano ci spiegano chi è il ruolo che ha e magicamente si mettono a giocare a palla a polo loro quattro e la chicca del capitolo è che mentre Debbie riesce a sbagliare ogni mossa possibile durante questa partita incredibile Reisu è bravissima ovviamente questo crea delle gag simpatiche con Debbie che è molto arrabbiata del fatto che Reisu è più brava di lei questa è la scena che avrete visto sicuramente pure con il nostro cameraman incredibile quando avete visto il trailer del manga quando Debbie al suo momento la sua scarpetta fa crack lei fa questa faccia e gli arriva una di quelle palle in faccia che si ricorderà per tutta la vita il finale è simpatico perché Debbie e Reisu fincono la partita ma Debbie non è soddisfatta non è soddisfatta perché non è stata lei a fare il punto decisivo e quindi se ne va sconsolata incredibile prossimo capitolo capitolo 4 e ditemi voi se non vorreste leggere una cosa che inizia così cosa rappresenterà mai questa immagine incredibile non pensate male il capitolo in questione parla di indovinelli ed è un capitolo abbastanza sus perché come al solito arriva Debbie in maniera sus dice adesso li sconfiggerò umano però non ha capito che la lezione di oggi è cercare di decifrare dei giochi di parole slash indovinelli sus che i nostri protagonisti sanno fare e lei no ovviamente non li sa manco capire Porella purtroppo a Debbie non basta la mossa degli occhiali incredibili da intelligentona per risolvere alcuni anichimi veramente complessi che sinceramente il vostro scheletro e sus incredibile non hanno capito questa immagine rappresentativa di tutto il capitolo guardate la faccia di Debbie quando non riesce a capire il significato di un indovinello questo diciamo che è riassunto dell'intero capitolo la faccia di Debbie che proprio non riesce incredibile a realizzare che certi indovinelli sono facili per un umano ma per un demone non lo sono per niente e c'è un'altra immagine incredibile vai su guardate un po' povera Debbie alla fine pensa di aver risolto un indovinello quindi è tutta contenta contenta quando Rocuro gli dice che ha sbagliato pure il terzo tentativo guardate quanto è carina Debbie Debbie che per la disperazione finisce nel Godovers questa è Debbie che dopo essere stata sconfitta per l'ennesima volta con un indovinello la sua mente trascende e va a finire nel Godovers incredibile prossimo capitolo capitolo sei incredibile mamma mia quanto è carina Debbie mamma mia Debbie mi va a servire pure a me il tè il caffè quello che te pare questo capitolo è molto tranquillo infatti è forse l'unico capitolo per un po' dove Debbie non fa le classiche figure da stupidina ma in realtà passa del tempo in maniera simpatica perché il Debbie arriva e dice ah dove è Rocuro adesso lo prendo a botta è incredibile e incontra Temari che gli dice che oggi Rocuro è impegnato e gli chiede puoi venire a passare un po' di tempo con me ci andiamo a bere una tazzina di te e passiamo del tempo come delle amiche incredibili cosa che Debbie all'inizio non è che capisce perché non è che Debbie ha tante amiche oppure nell'inferno può passare tempo facendo attività umane quindi alla fine accetta che guardate che succede passano del tempo insieme mangiano delle torte incredibili bevono delle cose incredibili e Debbie per la prima volta si sente umana che è una caratteristica un pochino Debbie svilupperà andando avanti nei capitoli incredibili perché mano a mano che stai con gli umani ti umanizzi anche tu ve lo sussi giustamente su messa dice delle cose molto sensate guardate un po' come vedete Temari è molto kawaii e tratta Debbie un po' come una sorellina e quindi il capitolo finisce con Temari e Debbie che si salutano e Rukuro e oggi non gioca con Debbie ci ha giocato Temari e capito Rukuro tratta bene Debbie ora Rukuro come ci rimane male che sotto sotto gli scirode che Debbie non è stata con lui il capitolo 6 mamma mia guardate un po' come vedete queste immagini di apertura del capitolo sono sempre come dire suss e a noi ci piace così mamma mia quanto mi piace Debbie così mamma mia anche questo capitolo è estremamente semplice perché si basa sul fatto che il nostro Rukuro deve studiare c'ha da fare e non può passare tempo con Debbie mannaggia lui e Debbie che fa entra nella sua camera e comincia a dire quando è finito giochiamo quando è finito giochiamo quando è finito giochiamo e lui gli dice guarda che devi aspettare non l'avesse mai detto infatti scopriamo che Debbie non sa aspettare lei vuole le cose subito istantaneamente quindi anche quando Rukuro gli dice di stare tranquilla di rilassarsi lei muove incessantemente dei rumori incredibili oppure batte il piedino insomma fa dei rumori incredibili il nostro Rukuro non riesce a studiare incredibile e arriviamo alla parte più simpatica quando Rukuro giustamente lì dice ah vedi di non fare casino che sto studiando Debbie per come dire controllare i suoi istinti da demonietti incredibili fa la cosa più ovvia del mondo ovvero Suss decide di fare un cosplay Sadomaso che a noi ci piace tanto giustamente vi state chiedendo qual è il collegamento tra fare un cosplay Sadomaso Suss e il non sapere aspettare non è che c'è sta un collegamento ragazzi Debbie è fatta così e bisogna apprezzarla per com'è il capitolo finisce con Reisu che è preoccupata per Debbie va a vedere che fine ha fatto e si ritrova una scena del genere con Rukuro che stava provando a slegare Debbie perché diciamolo era ridicolo le condizioni in cui si era messa e Reisu che arriva e vede questa scena e comincia a pensare che il nostro Rukuro voleva fare delle cose Suss come il vostro Suss e l'ultima scena incredibile è la nostra Reisu che prende Debbie scappa via all'inferno dicendo Rukuro che è un ragazzo Suss e che non si fanno certe cose con delle signorine e con questo si conclude questa scorpacciata di riassuntini sui capitoli di Debbie spero vi siano piaciute spero vi siano piaciuti i cosplay incredibili del vostro scritto e di Suss incredibile linea al camera con i capitoli finali e noi ci vediamo con tanti nuovi video incredibili e tanti costumi incredibili ve lo so esatto alla prossima quindi linea al camera per gli ultimi capitoli e rieccoci qua finalmente mi hanno aiutato la linea a me spero vi siano piaciuti i costumi incredibili adesso avete capito il collaudo perché quelle alette da pollo che c'erano tutte e due diciamo che hanno avuto dei piccoli problemini però dai sono stati alla fine bravi fanno sempre quelle battutine in più un po' sus però ormai avete imparato a conoscerli amarli anche se battono sempre come dire la lingua batto quel dente duole e adesso vi racconterò gli ultimi due capitoli capitolo 7 pesca in mare capitolo 7 si svolge interamente su una barca nello specifico è la barca del capo di Temari che abbiamo visto essere la migliore amica di Rocuro la sua amica di infanzia se così vogliamo mi immagino dei debbi su una barca con Rocuro e Temari che provano a pescare e a divertirsi con lei molto arrabbiata del fatto che non può giocare con Rocuro a qualsiasi gioco round e allora giustamente Rocuro stanco di una debbi molto arrabbiata se ne esce con una frase molto sus cioè che comincia a pensare che in realtà debbi non sia tanto forte come racconta allora lì debbi va in rage incredibile e dirà ah ok perfetto oggi siamo a pesca bene il gioco di oggi sarà la pesca quindi pescherò il pesce più grosso e vi dimostrerò che sono fortissima e vi batterò in maniera incredibile pazzesca e assurda benissimo inizia il tutorial per debbi su come si pesca giustamente Rocuro fa vedere come si pesca a debbi fa vedere come si prepara la canna pesca e gli fa vedere come mettere il vermino sul lamo ecco questa scena mi ha fatto molto ridere perché debbi quasi da di stomaco e fa ridere perché un demone non dovrebbe aver paura di cose vicine no? e infatti la sua reazione è questa dopo aver fatto pace coesenzia e aver digerito la questione dei vermini finalmente debbi si mette a pesca e mamma mia non pesca niente mentre Temari e Rocuro pescano un sacco di pesci lei Corella non pesca niente soprattutto per il fatto che all'inizio essendo terrorizzata dal vermino lei pesca senza un esca alla fine prende coraggio e riesce a pescare un pesce e come finirà secondo voi debbi che pesca un pesce anche di dimensioni devo dire abbastanza grandi viene presa appesciato in faccia e il pesce torna nell'acqua ovviamente debbi ci rimane male va in depressione mode ma non si arredde è questo che ci piace in debbi il fatto che non si arredda quindi mentre Temari e Rocuro sono distratti la canna da pesca di debbi dopo un po' pesca un altro pesce il problema è che il pesce in questione non è un pesciolino come quello di prima ma è un fortissimo squalo e giustamente lo squalo con una banalità sconcertante tira la canna da pesca e debbi finisce nell'acqua e qui c'è una scena incredibile perché mentre Temari e Rocuro sono agitatissimi oh mio dio se la mangerà lo squalo mamma mia vediamo cosa succede nelle profondità marite lo squalo che tra l'altro devo dire una cosa lo squalo è disegnato anche abbastanza bene ho visto squali disegnati molto peggio il nostro squalo in maniera molto sus sta per aggredire debbi e debbi gli fa capire chi comanda con questa scena incredibile dove gli fa sentire la sua presenza se così vogliamo lo squalo dopo aver visto la presenza di debbi il nostro pesciolino da squalo cane è diventato un semplice cane perché infatti è diventato un adorabile cucciolo che si fa cavalcare da debbi e il capitolo finisce con debbi tutta contenta che ha diciamo sconfitto la sua paura nei confronti dei pesci e Rocuro e temari che sono contenti che lei appunto non sia stata mangiata e Rocuro che si fa la domanda che forse e forse debbi è molto forte andiamo all'ultimo capitolo l'ultimo capitolo che vi voglio raccontare oggi è il capitolo 8 chiamato Otello l'otello è un gioco che avrete visto sicuramente in molti altri anime è questo gioco dove tu puoi essere un giocatore bianco puoi essere un giocatore nero e lo scopo è appunto conquistare praticamente tutta quanto il ring che succede in questo capitolo incredibile questo capitolo ha una feature che mi piace molto cioè la waifu andiamo nello specifico il capitolo inizia con il nostro Rocuro molto triste per il fatto che allora stabilita debbi non si è ancora manifestata e quindi intanto pulisce la cameretta prepara possibili giochi a un certo punto a fare il portale il nostro Rocuro sente un rumore alle sue spalle e dice oh è che è debbi e si ritrova mamma mia mamma mia perché sono nei manga questa signorina si chiama Diablo e con sé porta ovviamente debbi e scopriamo che Diablo è sia un'amica di infanzia di debbi sia il suo capo quindi se Reza è la sua sottoposta Diablo è il suo capo come vi ho raccontato prima e soprattutto la relazione che c'è tra loro due è molto sus perché Diablo non sopporta il fatto che debbi quindi un demone perda delle partite con dei giochi veramente stupidi contro un umano perché i demoni sono forti gli umani devono essere sottomessi non è possibile che tu perda ogni partita con questo ragazzino e allora Diablo mente geniale decide di dimostrare a debbi che gli umani sono fragili gli umani sono debili e che lei può distruggere questo ragazzino quindi giovano a hotello perde una partita ne fa un'altra e perde anche la seconda e qui c'è una gag molto simpatica il fatto che debbi goda tantissimo e una presuntuosa come Diablo perde contro proprio Rocuro di fatto la prende in giro veramente tanto e Diablo si arrabbia un pochettino allora debbi giustamente dice bene hai perso tu due volte ti dimostrerò io che in realtà posso sconfiggere a questo gioco incredibile Rocuro fanno una partita e debbi perde anche quella quindi di fatto è riuscito a sconfiggere due volte Diablo e una volta Debi nello stesso giorno quindi morale della favola i demoni sono tanta roba ma non peccano l'intelligenza il finale è simpatico perché debbi dopo aver perso guarda Diablo e dice vedi siamo su uno stesso piano perché hai perso tu e ho perso io Diablo prende la sua spada e gli dà penso uno dei colpi più forti dell'universo probabilmente se la porta via con un cadavere sulle spalle promette a Rocuro che non è finita e con questo si conclude l'ottavo capitolo di debbi il manga continua siamo arrivati oltre il trentesimo capitolo ci sono delle pause ogni tanto però poi quando meno te lo aspetti ti trovi il capitoneo di debbi italico non stiamo parlando di una lettura mamma mia che gli apre la settima dimensione però nel complesso se vi volete fadorisate volete vedere un po' di demoniette carine fidatevi che andando avanti ce ne sono di tutti i gusti colore dimensioni non avete idea vi siete affezionati a debbi dategli assolutamente una prova leggetate magari vi divertirete scoprirete di essere fan di demoniette che non riescono a sconfiggere un umano con dei giochi veramente stupidi alcuni sono un pochetto più però la maggior parte sono veramente cose banali e magari i pastelli del tempo godendo in maniera interessante spero che questo video vi sia piaciuto spero vi siano piaciute le gagging su staschetto soprattutto i loro costumini io vi ringrazio che gozio con voi e ci vediamo alla prossima puntata sigla ooo